Come allenarsi a casa senza attrezzi? Questa domanda mi viene fatta spesso dalle persone perché mi chiedono, Ivan, come posso allenarmi a casa senza utilizzare attrezzi? E se realmente posso avere dei benefici? Allora, la risposta è proprio lì. Per iniziare ad ottenere un grandissimo risultato non hai bisogno di attrezzi perché l'unico attrezzo più importante è il tuo corpo e allenarsi proprio a corpo libero, muovendo proprio la propria struttura fisica è l'allenamento più idoneo e efficace per ottenere i primi risultati che poi dopo ti porteranno a vivere un percorso e darti la visione di quello che potresti fare utilizzando gli attrezzi. Cosa posso fare senza attrezzi? Considera che ci sono tantissime tipologie di lavoro quello che consiglio è sempre un allenamento cardiovascolare e funzionale. Il primo ti permetterà comunque di creare una solidicitazione sia metabolica che a livello di cardio e quindi darà un grandissimo input a quello che riguarda l'aspetto del tuo corpo. L'altro è un allenamento funzionale e quindi significa creare la funzionalità delle due fasce muscolari per permettere proprio sia l'armonia che un risultato in seguito su quello che riguarda la tonicità. Ora, come posso allenarmi a casa? La risposta è fai un video di IEPI quindi utilizza la piattaforma IEPI Trainer per poter provare un allenamento a corpo libero. Spazio di utilizzo 2 metri quadri attrezzi zero, scappe di ginnastica che non è un attrezzo, è già un supporto e tanta voglia di sentire il tuo corpo muoversi e percepire le fasce muscolari che casomai fino ad oggi non hai mai sentito. La sollecitazione fisica che si ha a corpo libero è qualcosa di veramente speciale. Si sbloccano tantissimi aspetti e si dà al corpo un beneficio sia mente che corpo quindi psicofisico molto notevole. Per il resto ti auguro di fare un video IEPI di farmi sapere come è andato senza l'utilizzo di nessun attrezzo e vedere il tuo corpo come lo metti a dura prova. Alla prossima, vamos!